Ho bisogno che le drag queen mi diano una sistemata. È il trentesimo raduno del liceo. Non so nemmeno da dove cominciare o cosa indossare. Oh no! Ha aspettato trent'anni. Sarà meglio che brilli, amore. Oh! Non mi sento bella. Non mi sento una regina. Dobbiamo fare in modo che lei si renda conto che è già una regina. Hai mai indossato un corsetto prima d'ora? No, in realtà no. La strizziamo tutta. Fisserò una parte delle tue sopracciglia con la colla stick. Oh, cosa? L'incoronazione è stasera. Ma dov'è il mio vestito? Qui da qualche parte. Sai che non ho ancora visto il mio vestito? Domino ha spedito l'abito a me. Finalmente! Ed è in questa borsa. Non l'ho ancora provato. Spero davvero che ti stia bene. Ma ragazze, che succede se poi non le entra il vestito? Non ho un piano B. Ho solo un piano A. Ma ragazze, che succede se poi non le entra il vestito? Ma ragazze, che succede se poi non le entra il vestito? Non ho un piano B. Ma ragazze, che succede se poi non le entra il vestito? Non ho un piano B. Ma ragazze, che succede se poi non le entra il vestito? Ma ragazze, che succede se poi non le entra il vestito?